Buonasera amiche e buonasera amici bianconeri, è la vigilia del match Cagliari-Juventus, venerdì 8 aprile, oggi ha parlato Massimiliano Allegri in conferenza stampa, ma il fulcro del video, al di là di quello che è appunto un match importante e delle importanti dichiarazioni, almeno alcune importanti dichiarazioni rilasciate da Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa, quello di cui voglio parlarvi oggi e soprattutto quello di cui voglio capire il vostro pensiero oggi è il vostro orientamento sul concetto di centrocampisti di complemento di una rosa, che deve essere sicuramente implementata e che per quanto è la sensazione che ho, anche sulla base di tanti discorsi fatti con persone dentro al mondo calcio, dentro al mondo mercato, è che la Juve voglia fare un'operazione importante proprio a centrocampo, cioè la Juve deve implementare la propria qualità, la propria forza proprio nella zona nevragica del campo e quindi la sensazione è che il colpo top sarà fatto proprio in mezzo al campo. Non dimenticate che la stagione che andrà ad iniziare sarà quella che porterà poi al giugno 2023, ovvero all'anno che rappresenta il centenario della proprietà della famiglia Agnelli e proprio in occasione di questo ovviamente la sensazione grossa, forte, è che la famiglia di Agnelli con Andrea Agnelli in testa, ovviamente ben spalleggiato anche dagli Elcan, vogliono riportare la Juventus sul tetto italico e quindi tornare ad essere la squadra che primeggia in Italia. Ma poi chiaramente hanno come obiettivo quello di cercare di migliorare una situazione europea che da tre anni la vede anzitempo sbattuta fuori dall'elite del calcio che conta e quindi diciamo che il mercato che sarà, la sensazione non solo mia ma di tanti, addetti al mercato di tanti amici che si interessano sul mondo Juve e che sono peraltro giornalisti molto ben informati, è proprio quella che la Juventus voglia fare qualcosa di importante a livello di mercato. Io la sensazione, l'ho detta, è che sarà un colpo top a centrocampo, ieri vi ho parlato di Sergei Milinkovic-Savic perché secondo me rappresenta l'identikit al di là del fatto che è un giocatore che piace e sul quale ci potrebbe essere un'apertura dato il fatto che nel summit a Formello tra Lotito Tare e Maurizio Sadi è emerso che c'è la necessità di vendere un top player, un loro top player e la figura di Sergei Milinkovic-Savic ovviamente è quella primaria, quella che pare essere identificata nel elemento da sacrificare per portare liquidità nelle casse e per poter pensare poi alla Lazio di fare un mercato altrettanto interessante. E quindi rappresenta l'identikit del giocatore che andrebbe a completare, a migliorare decisamente soprattutto in Italia al centrocampo della Juve perché è un giocatore totale, un giocatore che ha nelle sue corde l'assist, ha nelle sue corde il gol e quindi migliorerebbe davvero di tanto e aiuterebbe probabilmente a migliorare sia la fase difensiva della Juventus che già è migliorata dopo un inizio un po' difficile sotto la guida di Massimiliano Allegri ma soprattutto andrebbe a migliorare la fase offensiva dando soluzioni, dando possibilità, maggiori possibilità agli attaccanti bianconeri di trovare la via del gol. Però ci sono poi quei giocatori di complemento dei quali vi voglio parlare ma faccio un piccolo sunto, piccolo inciso sulla conferenza stampa di Massimiliano Allegri. Domani è partita molto importante a Cagliari, partita importante perché la Roma che è la più stretta e diretta inseguitrice della Juve in questo momento ha una partita sulla carta piuttosto semplice ma occhio perché la Salernitana vende la cara alla pelle, occhio perché la Roma è una squadra un po' bizzarra, può fare la grande partita, può anche fare il grande flop, quindi attenzione perché non è partita scontata Roma-Salernitana ma sulla carta ovviamente la Roma è nettamente favorita e potrebbe, qualora Juventus non facesse bottino pieno, mangiare punti ai bianconeri e quindi partita da prendere con le molle Massimiliano Allegri furbacchione, ha voluto far capire alla stampa, ai tifosi che hanno ascoltato la conferenza stampa e probabilmente che li avrà mandati anche un po' in bestia, immagino io che non vuole i complimenti perché domenica la Juve ha fatto una partita secondo me molto importante, una partita bella, ha giocato veramente bene, le è mancata ovviamente la segnatura, le è mancata il colpo del capo sull'avversario, però da un punto di vista della qualità del gioco espresso, della partita giocata, la Juve è stata una Juve sicuramente nettamente superiore a tante Juve viste quest'anno, ma dei complimenti Allegri non se ne fa un bafo, tanto che ha esordito dicendo sarà una partita tecnicamente brutta proprio perché lui si auspica piuttosto una partita brutta ma uscire dalla Sardegna Arena con tre punti che sarebbero veramente fondamentali, poi a sei giornate dalla fine per consolidare questo quarto posto che garantirebbe la partecipazione alla prossima Champions League e quindi vuole una Juve brutta ma vincente piuttosto che bella ma perdente come successo contro l'Inter, considerando ovviamente che ci spieghiamo tutti che presto questa Juve possa migliorare qualitativamente, migliorare la qualità delle prestazioni o perlomeno essere in linea con le prestazioni fatte con l'Inter, ma ovviamente centrare i tre punti e sarebbe davvero un top che metterebbe d'accordo un pochino tutti. Venendo invece al concetto che volevo esprimere, colpo top ok, ma ci sono giocatori di complemento che devono andare a completare una rosa che vede quattro giocatori ancora in scadenza di contratto, di Dybala sappiamo già, De Sciglio pare vicino al rinnovo del contratto, non saranno rinnovati ovviamente tutti ma non saranno nemmeno tutti i giocatori che lasceranno a parametro zero la Juve. C'è certamente qualche situazione, Bernardeschi ad esempio una di quelle e quindi questi posti potranno poi essere riempiti numericamente ma anche, se vogliamo, qualitativamente da qualche, chiamiamolo giovane. E mi viene in mente ad esempio Niccolò Rovella che rientrerà alla base e allora leggo il discorso di Niccolò Rovella che rientrerà alla base. Su Fagioli io penso che il giocatore tornerà, può essere anche che faccia parta per il ritiro ma poi sarà mandato a giocare in prestito ancora, questa volta in una squadra che giocherà la Serie A per poi valutarlo in via definitiva se il giocatore è pronto per fare il salto di qualità ed essere un giocatore della Juventus a partire dalla stagione successiva. Questa è la sensazione di come potrebbero svilupparsi le cose. Poi sappiamo che la Juve ha altri giocatori giovani, interessanti come Ranocchia che sta facendo bene a Vicenza, come Miretti che sta facendo bene nelle giovanili nell'Under 23 e si parla tanto, si fa un grandire della possibilità di andare ad ingaggiare fratesi. E allora io vi chiedo qual è il vostro pensiero? Cioè la Juventus ha la possibilità di dare spazio, di far crescere, di puntare su Niccolò Rovella, su cui ha fatto anche un investimento abbastanza importante, però si parla di fratesi. Sono due giocatori sicuramente diversi, ma oggi io ho tweetato, premesso che fratesi a me piace, mi domando, considerando che dubito che la Juve possa volerli entrambi in rosa, perché non ci sarebbe poi spazio per entrambi, difficile che una Juve che vuole tornare a primezzare in Italia e voglia migliorarsi in Europa, dia spazio a Rovella e fratesi in contemporanea. Mi domando che senso ha o comunque siete d'accordo al puntare su un fratesi quando hai un Rovella in casa? D'accordo, ribadisco la differenza di ruolo, ma resta pur sempre il fatto che andiamo sempre a cercare, o perlomeno non parlo tanto della società, perché questo pare, ma non è certo, pare che la Juventus sia interessata, ma non c'è nessuna trattativa in atto, ma in tanta parte della tifoseria leggo, ascolto, vedo questa voglia di andare a strappare fratesi all'Inter, portandolo via ovviamente dal Sassuolo, perché pare che l'Inter ci sia sopra. Ribadisco che per me fratesi è un giocatore interessante, un giocatore che mi piace, però penso a un Rovella che è già al secondo anno di Serie A, 40 e oltre presenze di Serie A, vero, non ha ancora fatto gol, mentre fratesi ha già qualche segnatura con poco meno della metà delle presenze rispetto a Rovella in Serie A, però ecco, ditemi la vostra, perché vale davvero la pena rinunciare ad un Rovella a puntare su un fratesi, quindi spendere altri soldi su un fratesi è vero, hai un Rovella che potrebbe servirti come merce di scambio, ad esempio per arrivare a un Milinkovic Savic o per arrivare a un Niccolò Zagnolo o per arrivare, chi lo sa, a qualche altro obiettivo di cui in questo momento non siamo a conoscenza, ma al tempo stesso rappresenta comunque un giovane cardine dell'Under 21, un giovane che sta già facendo una bella esperienza in Serie A già alla seconda stagione, che ti arriva, diciamo, alla base e allora la domanda che vi faccio è se vale la pena, secondo voi, rinunciare ad un Rovella per puntare ad un fratesi. Ribadisco, sono due giocatori diversi, ti possono portare ognuno una cosa, l'altro ovviamente, uno una cosa, l'altro un'altra, anche a seconda di cosa può avere più bisogno la Juve, di che modulo potrà avere in mente di più Massimiliano Allegri se 4-3-3 o 4-2-3-1, io proprendo più per il secondo, ma a parte questo, ditemi voi cosa ne pensate sul concetto giocatore italiano di complemento, meglio continuare, puntare su chi hai già in casa, quindi Rovella che rientrerà di presto alla base, oppure andreste a fare un investimento su fratesi strappandolo ovviamente al Sassuolo, ma anche alla concorrenza dell'Inter che pare molto interessata al giocatore, ditemi la vostra, io vi aspetto domani sicuramente, dopo la partita Cagliari-Juventus, se c'è qualcosa, qualche novità prima, anche prima, nel frattempo vi auguro una buona serata e come sempre, fino alla fine, forza Juve!